www.malizopoli.it, ennesimo piattaforma, ennesimo sito oscurato dalla Consop, il 2139 Exchange che ha truffato migliaia e migliaia di risparmiatori in Italia che non avvedranno più i loro denari. Questo Exchange prometteva guadagni estremamente facili e elevati, offrendo addirittura garantendo un 1% al giorno. Insiderate cosa vuol dire questo guadagno un 1% al giorno, provate a fare un calcolino all'anno, è inverosimile, eppure era sufficientemente spinto sui social con uno schema di organigramma falso dell'azienda, con falsi testimoni, false recensioni, falsi forum online che hanno canalizzato decine e decine di persone pensando di facili guadagni. Riporto qui il sito, attenti al Gatto e la Volpe che è sempre inaguato.